Sono Roberto Esposito, senior partner Coralia, ho lavorato come direttore delle risorse umane in azienda per diversi anni e ho partecipato a tanti corsi di formazione e ricordo che da alcuni uscivo con la voglia di sperimentare, di provare da subito ad applicare quanto avevo appreso per cambiare qualcosa nell'organizzazione o nei miei comportamenti. Adesso sono dall'altra parte, faccio il formatore e quando sono in aula cerco di trasferire questa voglia affinché i partecipanti abbiano strumenti e motivazione per migliorare qualcosa nella loro attività.